come va cari amici del canale youtube rieccoci un caro saluto da parte mia a tutti voi rieccoci con il secondo contributo di questo lunedì 8 aprile c'è stata la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di milanello nel pomeriggio infatti ho aspettato qualche minuto in più per fare le ultime verifiche prima di di realizzare il video perché poi siamo tutti curiosi di capire se ci sono dei recuperi a milanello e sono soprattutto due i giocatori sotto osservazione ne parliamo nel corso di questo video così come parliamo di tutto il caos che si sta scatenando attorno a rafa leao perché cassano ha detto che non è un fenomeno un giocatore normale quando giocava lui leao non avrebbe giocato neanche in squadre da settimo ottavo posto insomma un vespaio clamoroso e poi sono saliti sul carro di cassano tutti gli interisti che hanno cominciato a scrivere contro rafa leao ne parliamo in questo video come sempre vi chiedo la gentilezza se possibile di iscrivervi al canale tanto è gratuito molti di voi vedono i video senza iscrizione è comunque fondamentale da questo lato invece avere un iscritto in più sempre un in più e quindi continuate così cominciamo cominciamo con l'allenamento al centro sportivo di milanello dopo un giorno di riposo concesso da stefano pioli alla squadra dopo il bellissimo 3 a 0 contro il lecce perché naturalmente è giusto anche concedere il riposo molte volte anzi è consigliabile concedere il riposo soprattutto quando gli impegni sono ravvicinati perché si evita soprattutto il rischio infortuni la squadra sta bene mentalmente fisicamente c'è entusiasmo noto entusiasmo anche da parte della tifoseria è stata una bella partita contro il lecce i tifosi erano molto partecipi i cori i boati insomma davvero una bella partecipazione da parte del tifo milanista e giovedì contro la roma in europa league l'ambiente sarà ancora più caldo e sarà ancora più bello ed emozionante come come partita perché c'è in ballo il passaggio in semifinale di europa league e allora cosa accade al centro sportivo di milanello cosa succede succede che stefano pioli sta preparando la miglior formazione possibile che sarà molto molto simile a quella vista recentemente con leao con pulisic con il ritorno di loftucic che si è riposato contro il lecce perché era squalificato con olivier girou con tevernandez con reinders e benasser la domanda però che tutti si fanno ci sarà o non ci sarà malik ciao al centro della difesa perché cambia tanto in base alla presenza del centrale tedesco se ciao è presente dal primo minuto allora affiancherà gabbia e in panchina ci sarà simon kir come primo sostituto altrimenti deve giocare l'esperto difensore danese dal primo minuto insieme a gabbia per marcare lukaku per marcare di bala e tutta e tutto l'attacco giallo rosso quindi cosa filtra da fil da milanello filtra che malik ciao al momento sta svolgendo ancora lavoro personalizzato oggi è stato il primo giorno di lavoro a milanello e sia lui sia tommaso pobega hanno svolto entrambi un allenamento individuale personalizzato però ci dicono attenzione alla giornata di domani martedì perché c'è l'allenamento al mattino e ciao potrebbe cominciare a fare di nuovo qualcosa col gruppo quindi filtrano comunque sensazioni positive per il rientro per il recupero del centrale tedesco ex schalke 04 oppure perché pioli ne ha bisogno ragazzi c'è calulu che assente per infortunio e probabilmente lo rivedremo tra qualche settimana c'è tomori squalificato purtroppo questa squalifica non ci voleva in europa league e quindi ciao deve un po stringere i denti deve un po stringere i denti poi è chiaro non è che possono forzare del tutto perché poi si crea l'effetto opposto cioè che l'infortunio diventa ancora più pesante la fascite plantare un'infiammazione al piede l'infiammazione solitamente sparisce col tempo ci vuole tempo ci vuole riposo però è anche vero che si gioca una gara fondamentale quindi io credo che alla fine ciao recupererà oggi però individuale questo è stato quello che c'è arrivato dal centro sportivo di milanello vediamo questa polemica assurda ragazzi io dico una cosa i tifosi interisti stanno per vincere uno scudetto uno scudetto lo scudetto della seconda stella con tanti punti di vantaggio sul milan ma perché non si godono lo scudetto invece di pensare a cassano che apre una diatriba con l'attaccante del milan c'è non c'è neanche un giocatore dell'inter chiamato in causa tirato in ballo in questa in questo dibattito come mai gli interisti sono così attenti alle dinamiche che succedono dall'altro lato del navigo questa cosa non me lo spiego cioè fossi un tifoso dell'inter sarei ultra felice di vincere lo scudetto tutto il resto non mi interesserebbe invece noto addirittura dei post sui social lunghissimi in cui si fanno elenchi di attaccanti che hanno segnato di più di leao giocatori che secondo alcuni sono più forti di leao ragazzi davvero godetevi questo scudetto abbiamo già parlato del dibattito a distanza non c'è stato neanche un dibattito un botte a risposta se proprio vogliamo essere precisi tra cassano e leao perché cassano dice leao non è un giocatore decisivo non è un fenomeno un giocatore normale non segna per cinque mesi la serie a un campionato talmente scadente che ora sembra che leao sia un fenomeno ma 10 15 anni fa non avrebbe giocato neanche nella squadra al settimo all'ottavo posto al sesto al settimo posto parere di cassano noto comunque un certo livore da parte di cassano nei confronti di rafa leao non me lo spiego nemmeno perché un bravissimo ragazzo c'è stata però la risposta di leao sui social con l'emoji del del pagliaccio è quasi come se leao avesse dato del pagliaccio a cassano che ha formulato queste queste dichiarazioni quindi c'è stata comunque quella la risposta di leao poi leao lascia sui social un commento si carica un po sui social e dice vengo da lontano non posso più perdere è una frase criptica una frase che però allude naturalmente a questo finale di stagione cioè lui arriva da da lontano arriva da da una situazione anche familiare non facile quando era ragazzo quando era molto giovane in portogallo ora che è la punta di diamante del milano non inteso come attaccante come centravanti ma punta di diamante inteso come il giocatore più rappresentativo di questo milano giocatore anche più talentuoso ecco di questo milano vuole cogliere l'occasione e vincere l'europa league e per questo dice non posso più perdere in questo suo post social è quasi come se caricasse se stesso caricasse l'ambiente attorno a sé e anche i compagni questo è quello che stanno vivendo al centro sportivo di milanello una carica emotiva ed emozionale importante verso la sfida d'andata di europa league dei quarti contro la roma sarà uno stadio pieno sarà un ambiente affascinante quello di san siro come sempre in queste grandi notti europee con la speranza che il milano possa proseguire in europa e affrontare poi magari in semifinale una volta superata la roma una tra bayern l'everkusen che sta vincendo il titolo in germania con grande merito oppure l'ustem quindi sono due le opzioni ma prima prima c'è la roma di de rossi non sottovalutiamo la roma perché una squadra completamente diversa rispetto a quella vista con josé murigno quella sì che era una squadra che non giocava a calcio questa invece è una squadra ben messa in campo devo dire che de rossi mi ha anche un po sorpreso non pensavo che potesse subito avere un effetto positivo sulla sua squadra sulla squadra giallorossa ragazzi vi saluto ci vediamo domani con aggiornamenti da milanello sperando che si possa parlare d'altro e non con queste continue frecciatine tra cassano leao e soprattutto altri tifosi che si interessano di argomenti che in effetti non vanno non vanno proprio ad incidere sulla loro stagione no perché poi alla fine è un dibattito tra cassano e leao cosa c'entrano gli interisti che vanno a fare i post contro contro leao esaltando le parole di cassano salendo sul carro di cassano per andare contro rafa leao è un po il giochino delle parti un abbraccio a tutti ciao